Domenica prossima, 8 marzo, ci sarà l'apertura ufficiale della campagna elettorale di Francesco Schittulli, candidato presidente per il centro-destra alle prossime regionali. All'appuntamento in programma a Bari, però, ci si arriva con una coalizione che deve fare i conti con la guerra, tutt'altro che conclusa, all'interno di Forza Italia, tra il commissario regionale, l'onorevole Luigi Vitali, e l'europarlamentare Raffaele Fitto. Uno scontro dai toni più che accesi con l'onorevole Vitali, che l'unedì a Bari ha incontrato sette consiglieri regionali, due erano assenti giustificati, e ha preso nota degli assenti che una candidatura alle prossime regionali, sotto le insegne del partito di Berlusconi, a sentire Vitali, se la possono scordare. Certamente in Forza Italia saranno candidati quelli che lavorano per Forza Italia, che rispettano Forza Italia, che accettano le regole di Forza Italia, dico, gli altri si candideranno dove meglio credono. Ma non è questo il problema, al di là degli amici cosiddetti di Fitto candidati o non candidati, a seconda dei casi, Fitto dovrà e deve fare una lista. Io mi auguro che tempestivamente smentisca queste voci e si dichiari disponibile a continuare a lavorare, come ha sempre fatto fino adesso, per il centrodestra con una sua lista a sostegno del professor Scrittulli. Ma il messaggio più eloquente è diretto ancora una volta a Raffaele Fitto. Io lo inviderei non soltanto a fare una lista come ha sempre fatto, ma a incominciare a fare campagne elettorali in Puglia, perché io lo vedo in giro in televisione, in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, domenica in Sicilia, ma noi abbiamo qui un appuntamento importantissimo che ha bisogno di tutti, anche di lui. In questo mare in tempesta prova a non perdere la bussola il candidato presidente Francesco Scrittulli, che sempre a Bari, nella sede del suo movimento, ha incontrato i segretari degli altri partiti di centrodestra per puntellare la campagna elettorale. Anche se resta il nodo su cosa farà Raffaele Fitto. Su questo Scrittulli garantisce. Io con Fitto ho dei rapporti continui, quindi non ci sono problemi. Fitto, ma adesso mi si rifà sempre la stessa domanda, Fitto praticamente sostenne dall'investitura che venne da Roma il suo sostegno alla mia candidatura e quindi manterrà fede a quello che è il suo impegno.